a chi spetta provare l'epoca di abuso nel condono edilizio ovviamente al proprietario ma soprattutto come deve farlo lo scopriamo tra pochi istanti in questo video chiaramente prima di andare avanti vi faccio vedere i miei riferimenti social da questa parte linkedin facebook e instagram il mio blog qua sotto a cui potete chiedere pareri tecnici naturalmente telegram e youtube e consiglio l'iscrizione al canale per ricevere i preavvisi le news e tutti gli aggiornamenti bene bene allora direi a questo punto perché non ci facciamo prima a spiegare da pieraccioni cos'è un condono edilizio così poi si vede come provare l'epoca dell'osso allora potere costruire per a costruire ma se non è detta buono fammi oltre che lo vanno giusto piccolo bancone d'appoggio muratura e allora costruire ma non potere bravo trucchette tutto lì non potere ma costruire anche perché poi improvvisamente arrivare condono improvvisamente arrivare con salto tu pagare e tenere bancone ecco più o meno diciamo il senso è quello prima di andare avanti veramente qualche secondo le ultime edil porcate che mi avete inviato allora allora direi qui scala dove hanno fatto praticamente hanno inventito la formula secondo me invece 2 a più p2 alzate più una pedata hanno fatto due pedate più un'alzata ecco verificata la legge 13 poi al numero due una piccola fraccia muraria così tanto i fondini vedo che comunque sono portanti va bene va bene così l'abbiamo messa in spessore la traccia e infine pilastro un falsetto eccolo qua quindi vi ringrazio per avermi mandato queste diciamo queste opere d'arte spero che non non avvenga nei vostri cantieri ecco se le notate davvero geometri architetti ingegneri periti non devono succedere quindi qui ci stiamo un po sorridendo ma in verità ste cose bene non accadano ora tornando seri si deve affrontare la vediamo la slide e a questo punto eccola ma dobbiamo fare il punto su cosa come provare l'epoca dell'abuso ma soprattutto chi la deve provare e perché spetta alla pubblica amministrazione oppure no no spetta al proprietario questo perché chi lo dice ce lo dice la normativa va bene ma anche la giurisprudenza soprattutto è andata nel dettaglio cioè spetta al richiedente dimostrare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti che comprovano l'epoca dell'abuso nel condono cioè tu proprietario che chiedi tu il condono tu devi dimostrare di averne diritto non siamo al giochino dove la pubblica amministrazione deve deve dimostrare lei che te hai diritto no lei verifica se te hai diritto in base ai dati e alle informazioni documenti che tu hai allegato allora si fa riferimento ovviamente a una pagina del mio blog che ovviamente vi ripeto scrivete studio tecnico pagliai.it oppure su google scrivete carlo pagliai mi trovate senz'altro e vi rimetto analizziamo rapidamente un articolo in sostanza noi abbiamo tre condone edilizie ve lo ricordo uno diciamo l'85 quello più tombale più ampio liberamente ci hanno un filato di tutto il secondo condone ha iniziato a stringere le maglie vi ricordate no il limite dei 750 metri cubi il terzo condono peggio che mai e lì addirittura oltre a i limiti volumetrici furono introdotti anche limiti da un punto di vista vincolistico di categoria di intervento e chi più ne ha più ne metà in più ci sono le regioni ci hanno messo lo zampino in certi casi forse in meglio e alcuni in peggio non entriamo in quell'ambito ma appunto nella domanda di condono edilizio deve essere ben chiaro che il tuo oggetto l'abuso edilizio sia stato realizzato prima di certe epoche prendiamo il primo condono 85 tu dovevi averlo fatto entro la data del memoria ottobre 83 non mi ricordo il giorno esatto praticamente tu appunto devi dimostrare intanto che in maniera inconfutabile tra l'altro che quell'abuso edilizio sia esistente prima di quella data altrimenti se te non dimostri che quell'abuso che ne so un ampliamento abusivo una sopraelevazione un proprio ancora una nuova costruzione se non dimostri che era stato realizzato prima di quell'epoca che è una condizione essenziale per accedere al condono e mi dispiace non hai diritto al condono anche perché c'è anche un altro aspetto 7 di chiari magari solo con la dichiarazione no quella con atto notorio che è una dichiarazione resa dal proprietario magari il proprietario oggi 2021 più del condono sì ma lui magari è il terzo proprietario che subentra rispetto a quello che davvero ha fatto l'abuso edilizio magari l'abuso edilizio di 50 anni fa magari è perfino anche 67 l'abuso edilizio ma noi lo vogliamo sanare col condono benissimo a maggior ragione è caldamente consigliato verificare con ogni documentazione possibile l'esatta epoca dell'abuso quindi foto aeree documenti catastali atti notarili qualunque documento che abbia una valenza provante che abbia una data certa e che dimostri la consistenza dell'abuso edilizio a una certa epoca quantomeno ora non proprio la data ma almeno l'epoca quindi ho una foto aerea del 65 dove si bene e quella quell'ampliamento c'è benissimo quella cosa allora è dimostrata ho diritto ad accedere o diciamo verificato una condizione essenziale per accedere per presentare il condono poi c'è tutta la questione vincoli e di lì veramente meglio evitare perché si va a far tardi però intanto ho dimostrato di poter accedere al condono perché ho ultimato l'opera illecita in epoca anteriore a una certa data ecco questo è importante quasi sempre il responsabile materiale dell'abuso non coincide appunto con il proprietario attuale perché nel frattempo sono passati decenni tra la domanda di condono e oggi quindi l'attuale proprietario che magari ha compravenduto l'immobile con le domande di condono pendente o magari l'ha comprata all'asta che lo so di come mai e perché o magari l'ha ricevuto semplicemente in successione anche questo ecco proprio perché non c'è una piena consapevolezza è bene che l'attuale proprietario prima di chiudere il condono al momento in cui va a chiudere condono il proprio tecnico vada a fare ulteriore a certamente dire lo so che ve lo siete tramandati no che più o meno questo abuso si dice sia del 71 è sì vediamo se è vero perché magari non è del 71 è stato fatto nottetempo quando c'era odore di condono edilizio magari comunque sia è stato fatto tipo nell'84 a ma non abbiamo detto che la soglia di sbarramento del condono era diciamo l'ottobre 83 ora il giorno non me lo ricordo a mente ve lo scrivo in descrizione promesso però da questo punto di vista bisogna appunto sincerarsi che quello è indicato corrisponde a verità perché altrimenti ricordiamocelo che condono è revocabile a ma passate 18 mesi no nel momento in cui mi fai una falsa attestazione salta tutto 18 mesi o non 18 mesi a parte il fatto che le domande di condono non presentate diciamo a suo tempo seguono dei regimi amministrativi un pochettino diversi poi va bene li li parifichiamo all'attuale ordinamento tutto bene ma lo schermo dei 18 mesi poi diventati 12 lo so qui non va bene c'è una falsa attestazione in una domanda condono non mi anche se sono passati anni cioè l'ho già ottenuto il condono non è che posso dormire in una botte di ferro e intendiamoci questo che sia molto chiaro ora giurisprudenza appunto la giurisprudenza a si è pacificamente attestata ve lo leggo qui il principio che l'onere di provare l'effettiva ultimazione dei lavori entro la data utile per ottenere il condono e questo vale per il primo secondo e terzo condono è posta carico al richiedente la sanatoria quindi anche se non sei il responsabile dell'abuso tu oggi che sei subentrato hai comprato un immobile abusivo eccetera tu hai l'onere dovere di dimostrare la data in cui ovviamente è stata effettuata l'epoca in cui hai fatto l'ultima azione dei lavori e appunto deve essere anteriore a quelle date soglie e sono state istituite relative ai tre condoni ok cioè tale onere è motivato dal fatto è solamente il richiedente l'attuale proprietario può fornire gli atti documenti gli elementi probatori in grado di dimostrare la certezza dell'epoca dell'abuso dell'ultima azione perché perché in difetto di tale prove resta impregiudicato la potestà della pubblica amministrazione di negare la richiesta con donna edilizia applicare le misure sanzionatorie repressive tradotto demolizione quindi il richiedente il condono non può limitarsi a fornire un principio di prova una ricostruzione verosimile o debole tipo la classica prova testimoniale resa dalla magari dalla vecchietta novantenne che come testimone ha visto tutto non va bene ci vogliono elementi e documenti basate sulla pienezza della prova e degli elementi fattuali fondate sulla legittimità del proprio operato tradotto cercate guardate le foto aeree guardate i documenti catastali gli atti notarili qualunque pezzo di carta e abbia una data scelta in mano alla pubblica amministrazione meglio che mai vanno bene anche gli atti privati volendo ma devono essere tipo un contratto di locazione no metti caso che un contratto d'affitto ci sia legata la pianta non catastale è però che sia legata magari depositata a suo tempo all'ufficio registro quindi io devo avere la copia conforme la copia integrale che dimostra la mia tesi quindi ci vogliono documenti di questo tipo altrimenti la carenza o l'insufficienza di questi presupposti per dimostrare l'effettiva datazione epoca dell'abuso è sufficiente per bocciare il condono per dare il diniego ecco perché veramente ripeto di nuovo la documentazione deve essere probatoria e deve avere elementi di certezza circa la consistenza e manufatto consistenza quindi volume e superficie anche le fotografie che mi dimostrano è davvero l'immobile è era è nato in quel modo eccetera e in particolare qui lo aggiungo anch'io lo sottolineo sagoma volumetria e aspetto perché alla fine sono quelli gli elementi che caratterizzano e connotano individuano l'edificio il manufatto o la porzione manufatto oggetto di condono ecco questo è un po il il succo della questione ora prima prima ad andare avanti con ultime considerazioni vi ricordo di mettere il like se vi è piaciuto intanto questo video questo contenuto se vi è stato utile per certi aspetti certi riferimenti se avete cliccato anche sulla campanellina ancora meglio perché riceverete preavviso delle prossime dirette prime visioni ok bene allora ultime ultime considerazioni veramente a margine veramente il miglior consiglio e posso dare è anche per evitare magari possibili contestazioni sullo stato legittimo relativa pratiche successive nel corso del tempo chiaramente è bene che sia ricostruita correttamente la catena la linearità di tutti i passaggi e tutte le trasformazioni edilizie intervenute nel corso del tempo tipo il più grande classico è quando viene fatta una domanda di condono nell'85 poi supponiamo che negli anni 90 e negli anni 2000 siano state presentate alcune di apre modifiche interne poi è stata presentata una scia nel 2013 per altre modifiche ristrutturazioni ecco qui il quadro si va a complicare perché immaginate davvero una catena e questi anelli non è che tornano proprio correttamente perché se ho una domanda di condono 85 poi quando vada a riostruire tutto questo se questi interventi mi sono andati a snaturare gli interni per esempio insomma poi la domanda di condono iniziale comincia a traballare pure lei e se traballa lei per via dello stato legittimo traballa in tutte le trasformazioni che sono a valle di essa quindi altro consiglio poi ci farò un altro video chiudete condoni prima di fare qualunque altra pratica edilizia intervento o ulteriori chiamiamole abusi e vi sconsiglio di fare abusi ma purtroppo c'è chi magari ha una domanda di condono pendente e insiste a fare altre modifiche senza titolo abilitativo senza permessi eccetera eccetera dai io che vi dico direi che ci diamo saluti alle prossime dirette video tra l'altro proprio domani 24 dicembre vi ricordo e metterò tra pochissimo anche l'avviso della diretta faremo il punto spero definitivo delle modifiche ai bonus edilizi superbonus cessione di credito decreto antifraud e tutte queste robe qua domani pomeriggio 24 dicembre 2021 ok così almeno si tira un po le fila di questa manovra economica e vediamo se il quadro comincia a essere a questo punto più solido e più chiaro rinnovo ancora una volta gli auguri di buone feste e natalizie buone per chi non magari non vedrà tutti video san silvestro capodanno e buon 2022 un saluto da carlo pagliai ingegnere urbanista e ci vediamo ai prossimi contenuti ciao a tutti